oh damina come stai? bene dai bene oh mostarda era ora e dovevo vloggare con l'altro account oh my god tu stai zitta che tu hai 300 miliardi di account e non ti capisco vinciamo sta comp ma io faccio vloggare non tanto come me scusami quando entro online aspetta faccina triste wispicare in italiano scusa dell'anno no 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 ho finito di scrivere sto scrivendo i canto come cosa? non hanno ila hanno tipo l'ultime pop e dai supporti oh cos'è genji ah ah ho un o dire che è che c'è scusa la mia pezzucata ahah che c'è scusa ahah che mori sempre oh 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 ci sono io oh io mi sto curando si mamma mia meno male che c'aveva il martello in quel momento tu l'hai caricato un casino con le mie ultime è stata tutta la mia io ho il sac ci sono anch'io madonna mi cade la cassa la cassa picchia sulla bottiglia mi cade poi il borsellino lo sto attaccando ha poca vita no io sono scappato a paura ah you suck ma hai lasciato da solo qua si ma ce l'ho sentito aiuto aiuto mi cade la cassa ah you suck ma solo ultato no ma non fa ah no ma non fa ah sorry doveva chargare io volevo bloccare drynard adesso mi mandiva nessuno che cassa odio ho visto ho visto un morto un raynard che si è morto ecco non so che se può meglio compare mamma mia Sì, sì, sì. Grazie per la visione!